Perché dovrai comprare The Division? Se sei il tipo di persona che ti piace sentirti l'eroe della situazione, prendere in mano una cazzo di arma e andare a sparare ai figli di puttana che nel gioco distruggono New York e sentirti classico liberatore eroe che cambia vestiti, fuggiamenti e abilità come in un RPG degno di nota, questo gioco va per te. Se sei il tipo di persona che odia tutti gli altri esseri umani e ti fa schifo l'idea di collaborare in un gioco online di massa piena di persone con l'idea di base del gioco come un gioco di squadra, puoi giocare da solo e fottertene degli altri, questo gioco fa per te. Se sei il tipo di persona che gli piace l'idea di sentirti come il tizio di A Beautiful Mind e stare in mezzo a 3000 numeri per ottimizzare il tuo danno, la tua vita, le tue abilità, le arme, le mode, il cazzo, il culo, i vestiti, il lucido labbra e sta ceppa di minchia, questo gioco va per te. L'unico MMO che ti stimola a fare le cose da solo e solo quando prendi i cazzi in culo in zona nera e in PvP ti invita a giocare con altra gente per inculare altra gente in PvP. The Division. The Division. Grazie. Grazie. Grazie.